Natale al centro, un ricco cartellone di eventi per tutto il periodo delle festività, un cartellone messo su dal comune di Crotone. Sì, predisposto dal comune di Crotone e congiuntamente a tutte le associazioni di categorie che sono protagoniste di questo cartellone di eventi, che contempla oltre 50 eventi. Abbiamo deciso di concentrare per lo più l'attività nel centro cittadino, proprio perché farla diventare una sorta di villaggio di Natale in tutto il periodo, quindi nell'area prevalentemente tra Via Vittorio Veneto e Piazza Pitagora. Cercheremo di valorizzare anche la zona del mercato, di Piazza Mercato, proponendo degli eventi serali anche in quell'area. Ed è il frutto di una concertazione che mira anche al coinvolgimento e cercare di supportare le attività commerciali. Molti degli eventi si svolgeranno nel tardo promeriggio, proprio per accompagnare anche lo shopping e cercare di rivitalizzare il più possibile il centro, con una serie di eventi, molti eventi musicali, l'intrattenimento per i bambini attraverso il villaggio di Babbo Natale, la predisposizione, quindi il ritorno alla notte di Capodanno, sempre in Piazza Pitagora, con l'allestimento di un palco coperto, quindi un evento importante, riproponendo uno degli eventi musicali più popolari, che era il Maverick Rock and Roll Festival, per il periodo proprio per la notte di Capodanno, sarà una due giorni, il 30 e il 31 dicembre. Mi piace esaltare anche il contributo dei privati che stanno intervenendo anche per compartecipare a questo ricco programma di eventi, in particolar modo l'intervento di FC Crotone e del gruppo Marrelli che stanno sostenendo anche questa attività. Ripeto, il ruolo da comprimario dell'associazione di categoria, tutte, diciamo che cofirmano questo cartellone di eventi, che hanno partecipato con un contributo di idee e anche di natura economica a questa iniziativa.